L'app si propone come scopo quello di raccogliere in un'unica app appunto dotata di cartografia i parcheggi di tutti gli operatori, cioè se mi interessa parcheggiare a Trieste metto dentro l'app l'indirizzo dove voglio andare, metto per esempio via Machiavelli, metto Rive lui mi trova tutti i parcheggi che sono presenti nella zona, in quella zona mi indica quali sono con grado di riempimento molto elevato e me li segno in rosso, quelli che sono riempiti in maniera parziale gialla e quelli che quasi sicuramente saranno liberi, quindi me li segno in verde. Per ciascun parcheggio mi indica anche quanto costa, mi indica l'orario, dopodiché io scelgo il parcheggio che mi piace, premo avvia navigatore e lui come navigatore mi porta proprio sul parcheggio che mi interessava. L'app naturalmente fa anche altre cose perché per esempio abbiamo implementato la ricerca sempre con lo stesso meccanismo delle piazzole di sosta per la sosta operativa, per gli stalli, per le persone disabili e adesso recentemente abbiamo messo appunto in occasione della settimana europea della mobilità anche altre cose che possono riguardare proprio la mobilità sostenibile. Parliamo delle piazzole dei taxi perché magari può essere interessante muoversi in taxi e non invece muoversi col mezzo proprio e parliamo anche dei bus elettrici che in questo momento Trieste Trasporti, anzi voglio ringraziare Trieste Trasporti perché in collaborazione con loro che abbiamo implementato questa nuova funzione, mette appunto a disposizione della cittadinanza, quindi dei bus elettrici sperimentali che faranno un tragitto che sulla nostra app verrà visualizzato.